Sì, abbiamo sbagliato bene il primo set, abbiamo sbagliato, eravamo un po' fuori giù, siamo entrati nei ritmi della scuola di Covid, dopo abbiamo cominciato a commettere gli errori che non sono abituali. Dopo il terzo set abbiamo fatto veramente bene. Adesso vediamo come siamo messi, puntiamo sul terzo posto, abbiamo fatto un po' di piacenza, a piacenza, tutto da giocare è migliorato con l'entrata degli 8 anni, però sarebbe importante arrivare a terzo in questo progetto a vincere questa partita bene, giocando bene perché tre giorni dopo questa partita con piacenza iniziamo l'iniziale. Sì, dobbiamo fare tanti conti, però speriamo che io un passo alla volta, step by step. Sì, arriviamo terzo e siamo arrivati in un bel posto. Dopo, se non riusciamo ad arrivare i primi, ne arriviamo ancora. Il primo già va direttamente nel centro sviluppo, quello sarà molto importante per la società, per tutti noi. Speriamo, vediamo. L'importante arrivare in questo momento giocando bene. La squadra gira bene, stiamo allenando forte, pesi, palla, tutti quanti bene fisicamente, nessun problema molto grave, quello è importante. Sono piccole cose, però questo è facile da gestire. Grazie. Grazie.